Albano Carrisi e la sua lussuosa casa di Cellino San Marco, nella sua splendida residenza c'è spazio per tutta la famiglia allargata del celebre cantante Il cantante non ha avuto una vita facile? Colpito da gravi lucchi e scomparse nella sua vita, ha cercato di vivere sempre in armonia nonostante una famiglia allargata difficile da gestire. Prima la scomparsa della figlia Ilenia. Poi quella della mamma Yolanda. Tanti drammi familiari che l'hanno portato a fare i conti con una dura realtà. Nonostante i grandi successi artistici nella sua lunga carriera, anche insieme alla ex moglie Romina Power, la sua vita non è stata semplice. Proprio la scomparsa della figlia Ilenia è stata la causa principale delle fine del matrimonio con la moglie. L'ingresso nella sua vita di Loredana Leciso ha costretto la famiglia ad una difficile convivenza. Che in effetti non è stata così difficile come si può pensare. Infatti a Cellino San Marco la dimora del cantante permette una stabile convivenza tra più persone. La famosa tenuta dell'artista pugliese non mostra problematiche di dimensione. Nel primo lockdown per emergenza coronavirus c'è stata la possibilità per tutti i membri della famiglia allargata di vivere senza particolari problemi. E così anche Loredana Leciso e Romina Power hanno potuto vivere in tranquillità la loro situazione di contendenti. La tenuta Carrisi, lussuosa residenza del cantante pugliese, ha permesso anche alla Leciso e a Romina Power di vivere senza problemi. Albano Carrisi possiede una lussuosissima tenuta Cellino San Marco. Che ha permesso per alcuni mesi, quelli del lockdown per emergenza coronavirus, la convivenza sotto lo stesso tetto, si fa per dire, delle due donne che si sono contese lo stesso uomo. Proprio le dimensioni della tenuta, mostrate spesso nei post di Instagram dell'Aleciso, hanno permesso alle due donne di avere ampi spazi a disposizione. Ma adesso pare che le cose siano cambiate. Infatti sembra che Romina Power, una volta arrivata la decisione definitiva dell'ex marito di non interrompere la relazione con l'Aleciso, abbia preso la decisione insieme al figlio Iari di non vivere stabilmente nella tenuta del marito. Una decisione presa con rammarico da Albano che si è sempre augurato una pacifica convivenza tra i membri della famiglia allargata. Ma ad oggi questo suo desiderio appare di difficile realizzazione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.